Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di Fano TV, Occhio ai giornali sul canale 17, siamo in diretta, sono le 7.47 del mattino e benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. E partiamo come di consueto con il Santo del Giorno per le previsioni del tempo e subito i giornali, oggi è Sangaio Papa, il sole è sorto alle 6.12, tramonterà un minuto dopo le 20. Invece per quanto riguarda il bollettino della protezione civile delle Marche, oggi ancora avremo una giornata con un po' di pioggia in queste prime ore del mattino, poi la pioggia terminerà e si andrà verso un miglioramento, o meglio un esaurimento dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Dopodiché domani tornerà il sole, anche se qualche residuo fenomeno piovoso resterà nel settore meridionale della regione, ma soltanto limitatamente al mattino, domani pomeriggio anche a San Benedetto ci sarà il sole. Per quanto riguarda le temperature, sia nella giornata di oggi, che resteranno stazionari, più o meno come ieri, quelle domani avremo ancora le minime stazionari, ma le massime invece, per effetto del sole che tornerà a splendere, saranno in risalita. Per venerdì 24 di aprile è ancora cielo sereno su tutta la costa adriatica e tempo buono, qualche vento moderato otteso nel pomeriggio proveniente da nord-est per il resto, insomma niente da aggiungere, le condizioni sono buone del tempo anche per il fine settimana, fine settimana che però, essendo in lockdown, ovvero essendo in quarantena, sarà comunque un fine settimana da trascorrere sui terrazzi di casa, per lo più, ma comunque sempre meglio di niente, è sempre meglio stare sul terrazzo al sole che chiusi nel salotto. Allora andiamo a vedere adesso i giornali, parliamo e partiamo dall'economia soprattutto, prima però guardiamo le prime pagine, allora le prime pagine, la prima pagina del Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro appunto riguarda questa stima fatta per la Regione Marche, 3 miliardi e mezzo, 3 miliardi e 6 sono queste le perdite stimate in un dossier della Fondazione Merloni per quest'anno 2020, a proposito mancano 250 ancora giorni alla fine di questo anno, abbiamo fatto i conti. PIL invece, il prodotto interno lordo in picchiata, potrebbe scendere più del 2013, in piena recessione interna, le perdite pro capite uscillano da 1200 a 2400 euro. Intanto l'esperto parla del virus e dice che sarà quasi a zero il 13 maggio rispetto alla previsione in fausta del 27 giugno insieme alla Lombardia, così come detto, previsto dall'Osservatorio Nazionale. Qui invece ci riferiamo a dei dati, dati e curve che parlano chiaro e dunque indicano l'uscita, ovvero il contagio a zero della Regione Marche entro o comunque intorno al 13 di maggio. Andiamo nella pagina, adesso spostiamoci a centro pagina, dove intanto si parla di burocrazia per avere anche quel prestito garantito dallo Stato che doveva essere un prestito fast, semplicissimo da ottenere, resta ancora un'impresa, decine e decine di richieste di prestiti fino a 25 mila euro, ma il percorso per ottenerli è ostacoli e i soldi ottenuti andranno restituiti. Infatti la cosa assolutamente idiota che questo governo ha fatto è quello di sì dare la possibilità di avere questi soldi, ma di fatto facendo questo fa indebitare ancora di più le persone, fa indebitare ancora di più le aziende, gli imprenditori, gli artigiani. Noi non abbiamo bisogno di altri debiti, non abbiamo bisogno di indebitarci con le banche, siamo già pieni di debiti, abbiamo bisogno di soldi a fondo perduto, cioè lo Stato ci dà dei soldi perché ci ha chiuso e di conseguenza abbiamo bisogno di liquidità. Punto, non dobbiamo restituirli a nessuno perché altrimenti siamo tutti capaci di fare mutui e debiti con le banche. Lo chef invece che con la sua provocazione ha annunciato, lo chef molti lo ricorderanno, lo riconosceranno sicuramente, Pompili del simposium di Cartoceto, lo chef che resta in mutande per protesta. È un articolo che troveremo tra poco e leggeremo tra poco sul Corriere Adriatico. Poi altre notizie in breve che rilanciano gli articoli all'interno. Al centro pagina invece la foto di tre persone, Cristina Perugini, commerciante, al centro Fabio Marchion impiegato e poi a destra Maria Mattioli, consigliere comunale. Sono tre persone che sono guarite, noi tornati alla vita, questo è il titolo, ma certe ferite non si rimarginano. E poi l'intervista che il Cardino ha realizzato con il virologo Burione, gli esami seriologici, dice, misurano la febbre del contagio, mentre il neuro, guardate la fotografia di questo ragazzino, il neuro, neulo, ce la farò prima o poi, neo laureato in trincea, non potevo tirarmi indietro. A 25 anni, appena laureato, doveva addirittura sposarsi a luglio, ma ha rinunciato tutto, ha detto io vado in trincea, questo è il mio lavoro e quindi iniziamo. E insomma devo dire che come inizio non c'è male. Poi sotto invece, addio Ponti, perse in città 15.000 presenze, ne parla il presidente degli albergatori Oliva, metà della stagione sarà da cancellare, ma questo è un po' per tutti. La Team System fa shopping in Veneto, l'azienda ha acquisito il 61% della MBM Italia e per loro dicono è un tassello importante. Due mesi di blocco, costeranno alle Marche tra i 2 e i 3 miliardi e mezzo il focus della Fondazione Merlone e l'impatto del Covid sull'economia regionale. Pili in caduta libera potrebbe scendere più del 2013, in piena recessione interna. I due scenari per le perdite pro capita uscillano invece da 1.200 a 2.400 euro. Il manifatturiero paga il prezzo più caro, meno 500 milioni. Lo stop coinvolge il 57% degli occupati e il 59% di attività. Un percorso a ostacoli, dicevamo, la corsa ai 25 mila euro, decine di richieste agli istituti di credito, ma ottenere questi soldi da banche e questo prestito non è così semplice. Fisac e FIBA dicono incide il rating dell'azienda e molte attività ne avranno soltanto una parte di questi 25 mila euro. Infatti quando si sente dire, anche stamattina leggevo un'agenzia, nel disegno di legge che è previsto, nel decreto legge che è previsto, altri 50 miliardi, poi vai a vedere nel conto corrente e non c'è un centesimo, non c'è un euro di questi soldi che ogni giorno annunciano che arriveranno. Dove vanno? Non si sa. Non si sa dove vanno a finire tutti questi miliardi annunciati che poi o vanno sempre ai soliti oppure vanno alle banche, non lo so. Allora, questa è la pagina del Corriere Adriatico. Ecco qui la provocazione, dicevamo, di Lucero Pompili, lo chef. Lui dice di essere pronto per il 29 di aprile a scendere in piazze in mutande. Non si capisce, non si sa bene in quale piazza, o forse sì, forse quella di Cartoceto, il senno di Cartoceto, non lo so. Comunque, probabilmente è una provocazione, ma vedremo. Di scendere in piazza in mutande con le chiavi del suo ristorante, del suo locale in mano. Perché noi abbiamo bisogno, dice Pompili, del simposio di Cartoceto, abbiamo bisogno di certezze e non di congetture senza indicazioni. Vogliamo una data sicura, dice, sulla riapertura e come tutelare la salute dei dipendenti e anche dei clienti. però il calendario deve essere rivisto alla luce dei rischi effettivi che presentano i nostri locali, non sulla base dei rischi stimati dalla squadra dei supertecnici del governo. Nel frattempo la data di ripartenza appare sempre più lontana rispetto alla riapertura delle altre categorie, il 27 di giugno abbiamo detto, e lui risponde, Pompili, altri due mesi senza incassi, con gli affitti, le rate dei mutui, le quote fisse delle bollette di gas, luce ed acqua da pagare, insomma, sono un problema. Poi Veronica Angeletti scrive e ancora fa altre domande alle quali lo chef risponde. Intanto sempre sulla questione ristorazione, la Confcommercio ha incontrato il prefetto di Pesurbino, Vittorio Rapolla, come ambasciatore della ristorazione pesarese presso il governo Conte. Ieri sia il presidente dei ristoratori della Confcommercio, Mario Di Remigio, di Polo e Pasta e Pizza, e il suo vice, Giorgio Andrea Ricci, di Ciles, accompagnati da Davide Ipaso, che è il segretario dell'associazione, hanno incontrato appunto il prefetto e dicono che con il lockdown il fatturato del settore della ristorazione nelle Marche è crollato di oltre 270 milioni e solo nella ristorazione di 153 milioni. Un drastico ridimensionamento che solo nel pesarese potrebbe coinvolgere almeno 6.000 persone e provocare effetti negativi sull'agroalimentare, oltre che sul rilancio del turismo. Poi lanciano anche un'iniziativa ed è questa, che secondo me è giusta, non fa una piega, nel senso che con molto pragmatismo hanno proposto al prefetto di ottenere la possibilità per il cliente tra le 7 di sera alle 9, tra le 19 e le 21, di poter ritirare di persona i pranzi prenotati e quindi alla fine insomma se ci sono le condizioni si può, chi può, deve riaprire. Poi è chiaro che se uno non ha le condizioni perché il locale è piccolo, perché mille problemi, è chiaro che questa persona o si adatta o aspetta, però ecco non tutti, ci sono persone e ristoranti che possono bellissimo come i bar riaprire con tutte le precauzioni ovviamente del caso, ma intanto mettiamoci nella testa che fino a quando non ci sarà un antivirus, un vaccino o qualcosa, una medicina, una tachipirina per il coronavirus saremo costretti a mantenere le distanze, a tenere obbligatoriamente le mascherine tutte le volte che usciamo di casa, perché comunque il virus è là fuori e di conseguenza dobbiamo prendere tutte le precauzioni. Detto questo, per agosto e le domeniche dipenderà dagli ordini, smart working che giolli, la ripartenza nella fase 2 dopo il 4 maggio, quindi come sappiamo è il lavoro da spalmare su sette giorni e forse durante anche tutta l'estate. Nel calzaturiero i laboratori hanno più dubbi sugli uffici, casa e azienda ci alterneremo, dicono gli intervistati che hanno risposto alle domande del Corriere Adriatico questa mattina. Giungla, riaperture, ancora senza linee guida, la fiera degli slogan. Il governo è in silenzio, la Regione preferisce non sbilanciarsi, l'Inail dirama le fasce di pericolosità di ogni attività, pronti con le mascherine, prestazioni protette e controlli anti-Covid-19. Ci sono nuove regole da seguire che sintetizza il giornale in questo grafico, dunque dalla gestione degli spazi di lavoro con postazioni distanziate, barriere separatorie, apertura di uffici anche inutilizzati per avere dunque più spazio. Per quanto riguarda invece gli spazi comuni come le mense aziendali, i punti di ristoro, gli spogliatoi, ci sono delle regole da seguire, ci saranno degli aggiustamenti da fare, per esempio garantire la ventilazione continua di tutti questi ambienti, far girare l'aria, insomma, turni per la fruizione di questi spazi, il tempo ridotto di permanenza, non ci si sta lì tanto a discutere, ma insomma bisogna fare la svelta, distanziamento sociale anche all'interno dei punti di ristoro e degli spogliatoi delle mense aziendali. Poi per quanto riguarda le entrate e le uscite dei lavoratori, anche qui favorire gli orari scansionati, prevedere una porta di ingresso e una di uscita. Ecco, queste chiaramente sono tutte indicazioni che dovranno essere messe in campo da chi può nelle aziende, perché poi se c'è solo un ingresso e si può fare, allora bisognerà trovare una soluzione, però nel momento in cui viene trovata è giusto che si riparta. Preferire per quanto riguarda le riunioni il collegamento a distanza, ridurre al minimo i partecipanti durante queste riunioni, garantire anche qui un distanziamento. Poi organizzare ovviamente il lavoro con orari differenziati, prevenire sempre degli assembramenti all'entrata e all'uscita, limitare le trasferte, l'utilizzo dei mezzi pubblici con le mascherine e il distanziamento. Anche qui sui mezzi pubblici il problema è questo, il virus, come spesso ci dicono, ci raccontano anche i virologi, gli esperti, gli scienziati, che qualcuno vorrebbe più nei laboratori a studiare, a trovare soluzioni piuttosto che in televisione, ma questa è un'altra polemica, un altro discorso, dicevo, i virologi dicono che il virus corre e a corso si è spostato in autostrada, in treno, in aereo. Quindi bisognerà in questa fase 2 organizzare bene il trasporto in Italia perché altrimenti saremo punto e a capo. Andiamo avanti con i giornali. Primo maggio, ecco Fabrizio Oliva, presidente degli albergatori di Pesaro, che dice, perse 15.000 presenze, una scure sugli alberghi che quest'anno avrebbero fatto il pienone con le iniziative previste in città, però ci sono questi ponti, tra l'altro anche interessanti, il 25 aprile, tra poco, il primo di maggio, insomma, sarà un'estate, dice Fabrizio Oliva, con un 50% della stagione che andrà persa, ma i danni potrebbero anche andare oltre, vista la situazione ancora incerta, alcuni alberghi potrebbero decidere di non riaprire, nonostante ciò verranno comunque messi in campo tutti gli sforzi possibili, ovvero ci sono elementi che entrano in conflitto con il concetto di concentrazione turistica tipico della vita di prima, eventi, accessi in gruppo alle piscine, il movimento che si genera negli alberghi, come gestiremo, giustamente si domanda Oliva, tutto questo, cioè uno va in vacanza, non è che va in vacanza marito e moglie per stare uno distanziato dall'altro, cioè uno mangia un tavolino e uno mangia dall'altro, è un po' un problema, è davvero un problema serio, io credo che bisognerà fare tanti sacrifici, ma saranno tosti. Il torneo sportivo, dice ancora Adriatic Cup, si sarebbe dovuto svolgere a giorni, ma anche questo salta, chiaramente persi anche gli eventi di inizio giugno. Salto anch'io dalla prima riga, vedete in alto, vado in fondo, perché parlando di eventi non possiamo non parlare di questo, li riconoscete? Eccoli, sono il sindaco di Fano Massimo Seri con l'assessore al turismo e agli eventi, Tien Lucarelli. Questo è un quadro, una ricostruzione della Fano dei Cesari del 2019. E adesso guardiamo il titolo. Eccolo qua, la Fano dei Cesari salterà, ma resisteremo. Il sindaco, come un console romano, organizza l'esercito comunale per mantenere in vita quanti più eventi possibili, ma anche a Fano la situazione è quella che è, e quindi è in forza, anzi probabilmente salteranno, ci sono incertezze comunque, punti interrogativi grandissimi per il Festival del Brodetto, che tra l'altro da settembre aveva anticipato appunto a giugno adesso per una questione di opportunità, eccetera. Salta, forse ritornerà a settembre, almeno quest'anno. Passaggi Festival, che solitamente apre le manifestazioni estive, anche questo probabilmente salterà, salterà anche il Festival Jazz, insomma salta la Fano dei Cesari, tutte queste iniziative, manifestazioni dove chiaramente il successo lo fa spesso anche il pubblico presente e di conseguenza dice il sindaco. Però su una cosa, Fano sarà all'avanguardia in tutta la Regione Marche. Sulla ripresa del turismo, il Comune infatti sta mettendo a punto un protocollo di sicurezza, garanzia dei turisti, che dovrà essere sottoscritto da tutti gli operatori. Per il resto, come dicevamo, come racconta questa mattina il sindaco in questa intervista da Anna Marchetti, per il resto insomma è tutto incerto. Bisognerà attendere quelle che sono le linee direttive del governo. Fano comunque dice pronta, riapriremo presto, in totale sicurezza, dando certezze a turisti ed operatori. Quest'anno si andrà in spiaggia? Domanda e come? La risposta del sindaco è ottimista, dice certo che si andrà in spiaggia, non so quando ma si andrà in sicurezza. Il settore del turismo è stato il più penalizzato e per questo tutti dobbiamo essere bravi nel reagire con progetti di rilancio perché la crisi si trasformi in una opportunità. E poi dice, per quanto riguarda gli eventi dell'estate fanese, c'è l'aspetto sanitario da tenere in considerazione, le mascherine che devono essere garantite a tutti e quindi o si distribuiscono o si devono poter acquistare a prezzi calmierati. Mi spiegate voi come si fa al di là di questi poveri farmacisti che adesso devono comprarle, le devono trovare, adesso si trovano, costano perché costano, però tanto il prezzo viene fatto a monte, già alto a monte, quindi il ricarico del farmacista spesso e volentieri è molto irrisorio. Ma mi spiegate voi come un governo ancora non abbia deciso dopo due mesi di abbassare la liva dal 22 al 4%, cioè sulle mascherine, su questa cosa di cui dovremmo stare, questo oggetto che dovremmo mettere alla bocca chissà ancora per quanti mesi. Cioè era la prima cosa da fare, prima ancora di mettersi a riconvertire o fare, a cercare le mascherine, insomma, visto che uno deve comprarne a milioni, ecco, abbassiamo almeno l'iva dal 22 al 4, sarà già qualcosa. No, invece no. Va bene, sarà una estate diversa, dice ancora il sindaco Serri, è inimmaginabile fare gli stessi eventi al 2019, appena le regole saranno note diremo che cosa fare. Torniamo adesso in alto, ecco, riandiamo avanti e parliamo adesso invece del virus, dell'aspetto sanitario. Abbiamo visto fino adesso l'aspetto economico, questa nostra prima parte della segna stampa, adesso andiamo a vedere l'analisi su quella che è la curva della pandemia nella nostra regione. Allora, intanto c'è questo dato che il virus sarà quasi a zero il 13 di maggio, quindi molto prima rispetto a quello che era stato ipotizzato dall'Osservatorio Nazionale. Le curve ormai parlano chiaro, dice il professor Fabrizio Fiore, insegnante di fisica alla Politecnica delle Marche. L'andamento dell'epidemia dal 23 febbraio con la numerazione progressiva dei giorni parla appunto di un, come vedete da questo grafico, eccola qua, la facciamo vedere, parla di una discesa, vedete come sta scendendo. Ecco, questa è una curva gaussiana, invece diciamo quella più standard della statistica per esprimere la distribuzione normale di una popolazione intorno al suo valore medio, vabbè, sono tutte cose un po' complicate, ma comunque quello che c'è e quello che si vede, anche un bambino capisce che questa curva, vedete, va in discesa e dunque i contagi stanno nettamente calando. Alla fine del lockdown dovrebbe esserci solo un caso positivo ogni 50 analizzati. Invece Burioni, il professor Roberto Burioni, virologo dell'Istituto Vita San Raffaele di Milano, che ha origini pesaresi, l'abbiamo già detto più volte, parla dei test questa mattina e li ritiene utili termometri della febbre del contagio. Promuove infatti le analisi del sangue che vanno a caccia degli anticorpi del virus, ma avverte alcuni non sono attendibili. Dunque anche lui è molto attendista, non si sbilancia più di tanto, ma quello che può dire e quello che dice, ne è convinto che alla domanda quanto sono le persone a suo avviso infettate, almeno, secondo l'Imperial College di Londra, è stato infettato almeno il 10% della popolazione. Ma è una stima, dice Burioni, in teoria potremmo avere risultati più ottimistici. Possiamo, e qui parla dei limiti, dei test, possiamo scoprire se l'individuo è stato infettato, l'immunità ancora non è stata provata. Cioè significa che quando uno ha preso il Covid ed è guarito, perché i tamponi dicono che è negativo, non è scritto da nessuna parte che quella persona non possa riprendere di nuovo il virus. E quindi, ecco, su questo bisogna fare chiaramente attenzione. Poi la febbre del contagio, di nuovo sul Corriere Adriatico, è in calo da nord a sud. Il Piceno, per esempio, è già guarito. Nuovi casi sotto l'1%. La provincia di Ascoli da quattro giorni non registra casi positivi. Pesaro, invece, ha una media di 17 dopo il picco di oltre 100. Ancona, attenzione, sta crescendo un po' di più. Solo un contagio ogni 20 persone analizzate. La media scende ancora, dunque sta andando molto meglio. I morti sono saliti a 845 tra le ultime 11 vittime, anche un uomo di 43 anni. Quarantena per oltre 11 mila operatori, scusate, quarantena per oltre 11 mila persone e 50 operatori ancora isolati. Il percorso dell'area vasta per far diventare Covid Friglio, ospedale di Urbino e Pergola, da lunedì apre anche la seconda ala de Villa Fastigi per circa 90 posti letto complessivi. Mentre il giornale pubblica anche una richiesta dei familiari dei pazienti che insistono tamponi per tutti gli ospiti ASP di Pergola. Questa è la notizia sempre sul Corriere. Da Urbino nessun malato nelle strutture per anziani. La residenza Montefeltro e quella protetta fanno eccezione. Non ci sono stati né contagiati né decessi, spiega l'assessore Elisabetta Foschi alla sanità del comune di Urbino e dice ancora, aggiunge, che insomma nelle strutture per anziani non ci sono ospiti ammalati. Gli operatori sanitari e sociosanitari saranno effettuate a breve i tamponi di controllo. La notizia non è da poco. Urbino per ora sembra un'osi felice soprattutto se si guardano i casi di contagi in case di riposo per anziani un po' sparsi in Italia. Però va anche detto per giustizia che anche Fano che ha registrato a Famiglia Nova, come tutti ben sappiamo, i casi di positività, anche purtroppo diversi decessi, ma non c'è solo Famiglia Nova, ci sono anche altre case di riposo a Fano dove non ci sono stati contagi e dove non c'è stato grazie al cielo nessun morto. Quindi ecco bisogna sempre essere il più possibile esaustivi e precisi. Guardate la fotografia di questo dottore Giovanni Imperio, 25 anni di Pesero, fa parte della squadra USCA, cioè di quelle squadre che vanno nelle case a curare i malati e lui dice non potevo restare a guardare. È un'intervista che ha realizzato il carriero questa mattina, dovevo sposarmi, racconta il dottore, il 18 luglio e poi partire per la specialistica in Germania, ma c'era bisogno di forze giovani quindi non mi sono tirato indietro. Sulla sua missione dice la morte non mi fa paura, ma ho dovuto isolarmi in un appartamento per evitare rischi alla mia famiglia. Racconta appunto della sua scelta, di questa scelta dopo essersi laureato il 15 luglio scorso a Bologna in medicina e chirurgia, aveva un programma, quello da novembre a gennaio un tirocino abilitativo, poi l'esame di estate, il matrimonio, la specialistica in Germania, insomma però poi il Covid, questo virus, ha sconvolto i suoi piani e ora è uno dei dieci medici pesaresi, altrettanti ce ne sono a Fano e Urbino, che compongono la squadra dell'unità speciale di continuità assistenziale, che curano appunto i malati in casa. Il padiglione Covid, ma il personale andrà tutelato sempre da Pesaro, i sindacati intervengono sulla riorganizzazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, percorsi e palazzine separate, oggi c'è una riunione operativa, mentre il segretario regionale Anao parla delle violazioni dei dipendenti, Asur pensi piuttosto alle sue, meno forma e più sostanza. Il segretario regionale dell'Assomed Marche, Oriano Mercante, interviene nella polemica suscitata dalla lettera inviata dalla direzione dell'area vasta 1 a tutti i dipendenti, ricordando loro che intervenire sui social, screditando l'azienda, è comportamento passibile di licenziamento. Un avvertimento considerato dal personale sanitario, da CGL Cisle Cimo, inopportuno e offensivo. Attenzione perché c'è un trafiletto, ecco, vediamo qua, ma l'abbiamo già detto ieri, lo ribediamo ancora una volta, sperando nel non assalto al Fortino, market chiusi, i supermercati saranno chiusi il 1 di maggio e il 25 di aprile. Qualità e sicurezza fanno l'eccellenza, parliamo del reparto di ostetricia e ginecologia che è stato, il direttore è stato tirato per la giacca e replica critiche imprecise, a Santa Croce aumentati i parti e ridotti i cesari, ora ci sono sempre due medici. Per chi aveva dei dubbi, insomma, Cicoli, il primario Claudio Cicoli, fa il punto e rassicura le mamme e soprattutto quelle donne che sono in attesa di partorire, che chiaramente hanno e vivono queste giornate, questi giorni, un po' con ansia per tanti motivi, insomma, di stare tranquille. Per quanto riguarda invece, a proposito di nascite, c'è questa bella notizia della bambina positiva che è guarita. siamo stati aiutati, dice la mamma dalla preghiera, la fine di un incubo per questa bambina sintomatica costretta al difficile isolamento casalingo. Controlli dopo il contatto con un infetto, poi l'allarme all'asilo, la madre dice finalmente una liberazione. è una notizia che arriva da Vallefoglia, ne avevamo parlato già diverse settimane fa, quando eravamo all'inizio di questa emergenza, infatti la bambina è stata rinchiusa dentro casa per 50 giorni, ha tenuto tutti con il fiato sospeso, un'intera comunità, quella di Vallefoglia, non solo con il fiato sospeso, quando appunto dammo questa notizia, questa notizia di questa bambina che era positiva. Ora la piccola è in compagnia della madre, in isolamento domiciliare, ancora è una situazione non facile, una quarantena infinita, scandita però dal sostegno dato dalla preghiera e dalla vicinanza delle persone. Da Pechino invece a Pesaro, ecco 10.000 mascherine in arrivo da Pechino, all'omaggio del baritono Song Yi alla città, il baritono ha donato queste 10.000 mascherine alla città di Pesaro, esempio di come la cultura crea legami forti. Le protezioni individuali arrivate da Pechino sono state consegnate alla protezione civile, pronte per essere distribuite alle persone in difficoltà secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale. Il ritorno alla vita invece di chi ha sconfitto il virus, ma ora se dormo ho paura di non respirare. La guarigione non ha debellato paure e incertezze, certe ferite non si rimarginano mai ed è anche riprendere fiato non è così scontato. Infatti ci sono delle riabilitazioni che per chi ha subito anche la rianimazione, per chi è entrato in rianimazione, c'è una... ci sono degli allenamenti che uno deve fare, delle pratiche che uno deve fare per tornare a respirare in maniera autonoma. Insomma non è facile, è un percorso difficile. Ho fatto il tour degli ospedali, ne ho visti morire tanti, come posso dimenticare, dice Fabio Marchionni. E sono interviste che troverete sul giornale di questa mattina. Intanto anche sul fronte detenuti la situazione è piuttosto calda. I detenuti sono in sciopero, ci condannate a morte, dicono i reclusi dal carcere di Villa Fasteggio di Pesaro, senza cibo da venerdì, in sciopero, rischiano il contagio e chiedono di scontare la pena agli arresti domiciliari. C'è un sovraffollamento, qua dentro dicono è impossibile mantenere le distanze, e dunque si va avanti con la protesta a oltranza, finché non saranno garantite le cure idonee in caso di contagio. E intanto da cartoceto c'è la richiesta di distribuire gratis le mascherine, una proposta al sindaco da parte dei consiglieri di minoranza, si punti su quelle riutilizzabili e non su quelle usa e getta. Poi aiuti dal Fano Club del Texas, raccolta fondi a favore dei nostri ospedali, contro l'emergenza coronavirus. E poi i fantastici 100 anni vissuti con amore di Giuseppina Barnesi, nonna Peppa, che festeggia dunque 100 anni, la vedete in questa fotografia, dove si stringono attorno a lei in un abbraccio, in questa occasione solo virtuale, i figli con tutti i parenti. Cagli invece piange la morte, la scomparsa di Antonio Cerrettini, conosciuto da tutti come Tonino, dopo circa dieci giorni dal ricovero per il contagio coronavirus, si è spento all'età di 81 anni il maestro d'arte Antonio Cerrettini. Una notizia che ha rattristato l'intera città di Cagli, essendo stato Tonino, così era chiamato da tutti, una persona molto conosciuta, rispettata e ben voluta. Dopo il diploma di maestro d'arte, da giovane aveva insegnato a Lecce e poi per molti anni, fino al collocamento a riposo nella sua scuola, all'Istituto Statale d'Arte Lapis, appunto, di Cagli. Lascia due figli, Cristiano e Diego, e i suoi cinque adorati nipoti, scrive Mario Carnali. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra segna stampa. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto la nostra informazione di prima mattina. Torneremo ad informarvi questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, al quale potete come sempre collaborare anche voi, e soprattutto in questo periodo in cui anche noi facciamo sempre molta difficoltà, reperire, cercare, uscire, fare interviste, tutto è complicato all'ennesima potenza. Allora, se con i vostri occhi, con le vostre orecchie ci date una mano, e con le vostre segnalazioni, anche audio e video, noi vi siamo riconoscenti. Quindi grazie per il lavoro e per l'aiuto che ci date e la comprensione che avete. A voi tutti vi auguro di una buona giornata. A più tardi. A presto.